Mercoledì 9 giugno, buongiorno, ben ritrovati, vi chiedo scusa per il ritardo, c'è stato un ritardo per chi ci segue in diretta, causato da un blackout elettrico che è avvenuto nelle ore scorse, quindi poi per riavviare tutto il sistema ci vuole un po' di tempo e quindi siamo qua. Allora partiamo come sempre, visto che abbiamo comunque sempre lo stesso orario alle 7.29, dobbiamo chiudere per dare spazio al collegamento con Loreto, dicevo andiamo a vedere subito il tempo e prima ancora il santo, il santo di oggi, oggi è Sant'Efremi, il sole sotto le 5.26, tramonterà le 20.54. Velocemente il tempo dal sito della protezione civile, per oggi precipitazioni soltanto sui Sibillini, per il resto sole, sole anche domani, più o meno stessa condizione, sui Sibillini ancora pioggia e poi sembra che ci sia la nuvoletta di Fantozzi sui Sibillini, piove solo lì, e quindi anche venerdì piogge pomeridiane sui Sibillini, per il resto tempo buono. E allora andiamo a vedere subito ai bagni Alda di Ponte Sasso con Marco che tempo fa lì, ma insomma vediamo... E chi c'è? Un ospite questa mattina, chi hai? È il mio socio, è il mio socio Vicky. Come si chiama? Eccolo qua, Vicky. Con la V di Verona, Vicky. Con la V di Verona, esatto. Vicky, Vicky, Vicky. Allora, Vicky, chi è Vicky? Il tuo socio in affari, immagino, in simpatia? Esatto, esatto, esatto. È la mascotte della spiaggia, 25 anni che è con noi, è così. Ecco, ma... È colui che ha dietro le giornate dei bambini, perché risponde, parla. Ah, ecco, quindi dice anche delle paroline, dice delle cose quando è in vena. Sì, 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 decisamente. Esempio, per esempio, quali paroline dice? Un saluto sempre, ciao, vieni qui, amico. Pure che adesso quando guardi le partite comincia a fare Juve, Juve, Juventino. A Juventino. Infatti è bianco e nero, è alla coda rossa, però è bianco e nero. Ho capito. Vedo un mezzo meccanico che sta sistemando la spiaggia, come al solito, a quest'ora. Insomma, per far sì che tutto sia pronto. Sì, decisamente. Sì, dicevi? Tutte le mattine passa per la pulizia. Ecco, sì. Dicevo che Aset tutte le mattine passa per la pulizia. Ho capito. Quindi fanno un buon lavoro. Oggi è un po' mosso il mare, già di prima mattina. Sì, perché c'è una leggera bulezza da nord, però sono fiducioso. Penso che nel pomeriggio uscirà fuori una bellissima giornata. Bene, allora, grazie per questo collegamento anche oggi. Buona giornata e buon lavoro anche a te. Buona giornata a tutti. Allora, andiamo a vedere i giornali, come di consueto. Apriamo con il Carlino di Pesaro. La fotonotizia è per... Questa è un po' una... Come dire? Forse un fulmine del ciel sereno. Non lo so neanche tanto, perché insomma le cose non è che stavano andando tanto bene per Valentino Rossi. Comunque c'è questa indiscrezione che arriva dalla Spagna che Valentino Rossi si potrebbe ritirare già a fine giugno, a fine mese. Questa è la notizia del Carlino di Pesaro. I vaccini, invece, terza dose da settembre. L'assessore regionale Saltamartini parla di copertura di 6-9 mesi. Più o meno si sa che il vaccino copre tra i 6-9 mesi. Quindi occorre riprogrammare. Si ripartirà dai medici. Quindi la terza dose da settembre. Qualcuno diceva di chiudere gli hub a settembre, di farli soltanto in farmacia. Ma visto che si parla già di terza dose, a questo punto sarebbe interessante capire come intenderà l'assessore Saltamartini, a perlomeno nella regione Marche, fare questa terza dose. Intanto il fascicolo della procura. Tre persone indagate per i lavori interrotti all'ex tribunale. A Fossombrone la protesta, ambulanze, senza medico, adesso basta. Si allunga la notte del coprifuoco. Buona la partenza e ora il fine settimana. Poi i 110 anni della Benelli. Ecco il logo delle celebrazioni. Muore a 68 anni Fiorenzo Troisi, il vigile urbano più conosciuto a Pesaro. E poi a Trebbiantico il comune apre il cimitero islamico. Sotto Vuel, Panichi, promuove Zanotti Azzurro. Il preparatore atletico della Nazionale, fisico e modesti, è un giocatore importante. Poi Gucci, parliamo di calcio, quindi prenota una maglia. Vis, io ci sono. L'attaccante, se la società vuole, io resto. De Vito, sul fan, invece dice, bastava poco per salvarsi. Anche il Corriere Adriatico, l'edizione pesarese, punta l'apertura sul cimitero per i musulmani. La tragedia del Covid ha accentuato l'esigenza di identificare uno spazio riservato agli islamici. Stipulata dalla comune una convenzione, la soppoltura sarà concessa esclusivamente ai residenti. Mentre a centropagina, ma quale ruota, ci sarà un campetto. Gli arredi in piazza d'annunzio, quindi prevedono questo campetto. Intanto Salta Martini ai sanitari Novax va giù duro, dice, se contagiate pagate voi i danni. La Regione è pronta dunque a costituirsi in giudizio con i pazienti che verranno contagiati dai sanitari Novax, cioè i sanitari che lavorano in ospedale, ma che non vogliono vaccinarsi. Una linea durissima che l'assessore ha ribadito ieri durante il Consiglio regionale. E poi stalkerizza, cioè non dà pace all'ex fidanzata. Poi spuntano altre due denunce, questo a Pesaro, uno schianto shock, il freno si conficca nella gamba. Una persona è finita all'ospedale, poi a Fossombrone, vandali alle cesane, capanna dei folletti, ancora nel mirino. Ateneo Commercio e Museo è il San Domenico del futuro, il piano di restauro firmato dall'architetto Canali. Poi, sempre dalla prima, scherma storica alla pala Carneroli, tornano anche gli spettatori. Saltamartini ha già pensato alla terza dose, siamo già nelle pagine interne dei nostri giornali. A fine settembre, dopo nove mesi di copertura, per chi è stato vaccinato a dicembre, maturandi superato il 65% delle prenotazioni. Insomma, nelle Marche, dice l'assessore Saltamartini, prevediamo di iniziare nell'ultima settimana di settembre il terzo richiamo vaccinale anti-Covid, ad esempio per il personale sanitario, che è stato il primo ad essere vaccinato, dice l'assessore, a partire da fine dicembre. È infatti acclarato che la copertura dura circa nove mesi. In attesa di completare il ciclo di vaccinazione, l'assessore si goda il risultato dell'adesione dei maturandi alla campagna vaccinale. Siamo sopra al 60%, abbiamo toccato il 60-65%. Solo ieri, al centro unico di prenotazione, hanno telefonato 400 marchigiani che collegano la seconda dose con i giorni delle prossime vacanze. Cioè ci sono persone che, prima di andare in vacanza, vogliono essere certi di organizzare anche il richiamo e quindi di non magari trovarsi scoperti. Intanto ieri niente decessi, niente decessi in tutta la regione Marche, collegate al Covid. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva perché da 17 si è passati a 15, quindi due persone in meno. Tre sono ricoverate a Marche Nord, anzi sei a Marche Nord, tre ad Ancona Torrette, uno a Iesi, tre a Civitanova, e due a San Benedetto del Tronto. Poi Marche Multiservizi che fa i vaccini anche in azienda, è la prima in tutta la regione Marche, è la prima della regione, venerdì apre l'hub dell'auditorium di Via Toscana. Tivi Roli, che è l'amministratore delegato appunto di Marche Multiservizi, sottolinea i rapporti con il gruppo Era. Andiamo a vedere l'altra pagina. La regione dura con i Novax, se contagiano i pazienti risponderanno dei danni. Questa è un'altra notizia che andrebbe approfondita. Una linea durissima, come dicevamo in apertura, che l'assessore Saltamartini ha ribadito ieri durante il Consiglio regionale, non risparmiando bordate al personale che non si sottoporrà per scelta alla profilassi anti-Covid. E sentite cosa dice, in caso di nesso causale di trasmissione del Covid a pazienti da parte dei sanitari Novax, la regione Marche non si costituirà in giudizio a favore del personale, come solitamente avviene, ma a favore dell'utente. La motivazione? Abbiamo deciso di applicare letteralmente le disposizioni che sono state rinnovate con decreto legge. Alcuni ragazzi poi dice, mi hanno scritto dicendomi che preferiscono vaccinarsi a settembre, qui parla degli studenti, perché la copertura deve durare tutto l'inverno. Saltamartini però dice, è un falso problema perché il Covid circola anche d'estate. Bisogna essere chiari ed espliciti, bisogna vaccinarsi adesso ed è necessario fare il richiamo entro i nove mesi, in modo che saremo più tutti sicuri di evitare un eventuale ritorno della pandemia. Ora, non abbiamo adesso tempo per fare i commenti, quindi andiamo avanti. È morto Troisi il poliziotto motociclista, aveva 68 anni, un volto noto degli infortunisti, che era stato fondatore e animatore anche del gruppo sportivo della polizia locale. È morto, aveva 68 anni, l'ha vinto un male incurabile contro cui combatteva da tempo. La notizia della sua morte è arrivata ieri sera, intorno alle 21, mentre i suoi colleghi del gruppo sportivo, presente anche il suo grande amico Peppino Crisci, stavano cenando e pianificando la prossima trasferta per le finali nazionali di calcio a 5 a Torre dell'Orso. Lascia la moglie Franceschi, figli Gianluca e Lorenzo, oltre a una nipotina adorata che si chiama Nina, appunto. La cronaca, un incidente, un incidente che c'è stato a Fano ieri tra un motorino e un ciclista, un manubrio che si è conficcato nella gamba, uno schianto shock, titola il Corriere, tra scutere e ciclista, nuovo sinistro all'incrocio tra Via Giustizia e Via Paleotta, un 59enne peserese portato al pronto soccorso. È successo intorno alle 12 e 15, uno scuterone condotto da una fanese di 58 anni ha travolto una bicicletta condotta da un peserese di 59 anni che stava attraversando la strada sulle strisce. Per quanto riguarda invece la passeggiata romantica, qualcuno se la ricorderà, ne avevamo parlato anche noi qui su Fano TV nel corso dei nostri telegiornali, la Darsena Borghese, questo luogo stupendo che si trova al porto di Fano. Ora, la Darsena sarà pronta a fine mese, c'è un accordo con rete ferrovie italiane, dove tra l'altro passa la ferrovia adriatica, c'è l'intesa sul sottopasso, c'è un sottopasso lì che verrà, quello di Nazario Sauro, che sarà realizzato ex novo, completamente nuovo, il sottopasso di Via Nazario Sauro. E si tirerà dritto, questa è la novità che scrive Andrea Maduzzi questa mattina sul giornale, si tirerà dritto per completare l'intervento fino alla ferrovia. Perché tra un intoppo e l'altro, perché c'è stata l'interruzione a causa di una quarantena alle maestranze, delle maestranze che ci lavoravano lì, insomma, fatta una serie di considerazioni, piuttosto che segmentare l'appalto, se ne farà uno unico e insomma si andrà fino in fondo, e quindi ci vorrà insomma il tempo che ci vorrà. Mentre la pagina di Fabio del resto del Carlino pubblica questa notizia curiosa, ma che sposa la grande, nel senso che una commerciante a un certo punto ha deciso di affiggere un cartello mettendo al bando praticamente il solito tema, il solito discorso, ovvero il Covid. Non se ne può più, basta parlare solo di Covid. E così questa ragazza, Caterina Clementi, titolare di un negozio di casalinghi, ha chiesto di parlare di altro, di essere un po' più ottimisti, eccetera, eccetera. Allora, il risultato qual è? Come scrive Tiziana Petrelli sul giornale questa mattina, il risultato è che una parte piccolissima di questi suoi clienti ha detto beh insomma questo cartello potevi anche risparmiartelo perché c'è gente che soffre, vabbè, c'entra niente. L'altra parte invece, la maggior parte, ha detto ma sì hai ragione e quindi ti dirò una bella notizia. E quindi chi ha raccontato, ha detto al fidanzato di essere incinta, chi ha raccontato un'altra storia comunque bella, insomma si è veramente, ha fatto effetto e quindi si è parlato di altro e meno male. Questa è una trovata che non è unica, originale in Italia, c'è già altra gente che l'ha fatto, però a Fano ha debuttato questa ragazza e speriamo che ci sia qualcun altro che segua l'esempio, così si parla di altro. Contributi per le persone fragili, in arrivo 460 mila euro di aiuti, andranno i residenti di 9 comuni che fanno parte dell'ambito territoriale 6, l'assessore Dimitri Tinti dice ora è tempo di dare solidarietà, mentre ricorderete la notizia di ieri, mise cocaina nel pannolino, rimane in cella, in carcere, il quarantenne finito nelle manette dei carabinieri di Fano con l'accusa di spaccio. Furti, bivacchi e riqualificazione, Piazza Costa aspetta di ripartire, titola la pagina di Fano del Corriere, i negozianti chiedono un presidio sociale e niente auto, resta l'incruciale, si acceleri su luce e sugli arredi. Dal Carnevale allo Sport, l'omaggio della città a Vicini, istituzioni, amici e sodalizi a San Paterniano per l'addio all'amato imprenditore Paolo Vicini. Cimitero islamico a Trebbia Antico, invece, entro l'estate, si tratta di 60 forse fosse che saranno realizzate prevedendo la sepoltura verso la Mecca. L'amministrazione comunale ha dato l'ok, l'esigenza è nata con il Covid che ha bloccato i rimpatri per le inumazioni. Il giorno del concorsone, oggi più di 5.000 per 36 posti a Pesaro, bandito dalla Regione Marche, si svolgerà sotto strette norme anti-Covid. Da ieri riaperta la chirurgia a Pergola, il primario Francesco Vittorio Gammarota, che era stato trasferito ad Urbino per i lavori antisismici. E poi la ciclabile da Fano Urbino via Cesane, l'assessore Baldelli svela il percorso, poi da Fossombrone andremo con un altro tracciato sulla Flaminia fino a Cantiano. Basta con le ambulanze senza il medico, il sindaco di Fossombrone Bonci denuncia il permanere di una situazione precaria, non si gioca la roulette russa con la salute. Da Senigallia altro che fiori a passeggio tra rifiuti lungomare da vergogna per i turisti. E infine lo sport, vale spegne i motori a fine giugno. Questa è la domanda, l'indiscrezione dalla Spagna, i risultati della strategia Petronas potrebbero spingere il pilota a lasciare praticamente subito. Poi fanno smentite le voci di cessione, il presidente Offidani intenzionato a proseguire l'avventura nonostante la retrocessione. Appuntamento con l'informazione questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.